Anti due gradi a dritta! Ma cara, cosa fanno in una lavatrice? Una lavatrice? Ma che marca è? Una Zoppas! Ah beh, allora vi sta bene! Zoppas, la prima lavabiancheria italiana a ciclo completamente automatico. Gnora, con la superautomatica Zoppas, se vuole può scegliere le temperature e i tempi di lavaggio che preferisce. Sono infiniti i programmi che lei ha a sua disposizione. Per lei ci vuole la superautomatica Zoppas. Silenziosa, robusta, perfetta. Un marito che sa, una moglie che vale, per la loro casa scelgono solo la superautomatica Zoppas. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!